Ti piacciono le maniere umanistiche, ma anche la matematica, la chimica, la biologia sono tra i tuoi interessi e hai voglia di approfondirli, allora il potenziamento scientifico del Tito Livio è quello che fa per te. Ci troviamo dentro il laboratorio di chimica e biologia, dove insieme potremo misurare la densità dei corpi, preparare soluzioni, vedere preparati biologici al microscopio. Ci dedicheremo alle visite, andremo a musei, mostre come il Muse di Trento o il Festival della Scienza di Genova o la Ducati di Borgo Panigale. Se questo è quello che realmente vuoi fare, allora iscriviti. Grazie per la visione!